Io ho qua un piccolo esempio delle tantissime segnalazioni che arrivano via mail, via twitter, via facebook e sono le prime tappe che andremo a seguire, in stazione Tiburtina ci sono già stato io ho chiesto ai nostri candidati dei municipi un progetto concreto per municipio se noi non presenteremo il programma con 78 cose da fare, tutto più bello, tutto più verde, tutto più pulito abbiamo visto che fine hanno fatto le promesse degli altri compreso quelle di quel poveretto di Marino quindi in stazione Tiburtina c'è un ettaro di area verde di proprietà della regione Lazio quindi proprietà pubblica abbandonata da anni che anche quest'estate rischia di diventare punto di riferimento di centinaia di immigrati sbandati, ciabattanti di ogni genere e quindi una situazione politica normale prevede che sia in un'area pubblica lì ci fai un parco, non ci fai una giungla dove tutto possa succedere così come cercheremo di essere nel palazzo di via Curtatone da tempo immemore occupato anche in questo caso da centinaia di senza titolo e le stazioni rifugiati è un punto di vista, rifugiati è veramente soggettiva come idea visto che sono il 3% quelli che vengono riconosciuti come rifugiati quindi per quei 3 su 100 i palazzi occupati abusivamente da me, da lei o dal rifugiato non esistono sulla faccia della terra soprattutto all'uscita di una stazione che è il biglietto da visita di una città non è possibile, questo vale per Milano come per Roma che le migliaia di turisti che arrivano il primo approccio che abbiano con la città è la schifezza è l'occupazione, è la sporcizia, è il degrado, è l'illegalità non deve esistere neanche nell'ultimo dei quartieri più lontani dalla stazione men che meno là dove tu offri il tuo biglietto da visita il prossimo, questo vale per Bologna, per Milano, per Torino o per Firenze soprattutto periferie, ci sono una marea di segnalazioni delle zone dimenticate dalle passate amministrazioni perché evidentemente i problemi di Roma non nascono quest'anno, l'anno scorso, due anni fa ma una città che riesce ad accumulare un debito di 12 miliardi di euro evidentemente ha avuto amministrazioni non particolarmente oculate e brillanti negli anni quindi noi ci proponiamo di entrare in Campidoglio per far pulizia con tutti i nostri limiti per carità di Dio per quanto riguarda il patrimonio culturale, ha detto Irene la politica al ribasso, gratis per tutti, poco per tutti, non porta lontano e questo vale per tutto il patrimonio museale, culturale, architettonico italiano mi sembrerebbe più intelligente far pagare qualcosa e valorizzare al meglio queste strutture invece di far finta di renderle disponibili a tutti lasciandole cadere e crollare situazioni di vita reale come quella che ci siamo impegnati mi incuriosisce in questo modo di far giornalismo a commento ci sono gli spazi per le domande alla fine perdone, ci sono gli spazi per le domande alla fine se lei ha a cuore i rifugiati facciamo una bella conferenza stampa dove diciamo viva viva i rifugiati, io e lei e vediamo numeri alla mano chi ha ragione il problema di Roma sono i romani, non i finti rifugiati che hanno strarotto le palle perché il 3% di persone che scappa dalla guerra deve essere accolto non negli stanzoni abusivi ma in un salotto, quel 3% gli altri 90, biglietto di solo andata per tornare da dove sono arrivati questo è il mio personalissimo punto di vista applicato in tutto il mondo civile detto questo ci troveremo a parlare del problema dei rifugiati io oggi sono qua a parlare del problema di alcuni milioni di cittadini romani che sono accoglienti solidali ma non fessi sono generosi ma non fessi fanno volontariato come tanti altri vanno all'Avis, all'Aido, in parrocchia e nei centri sportivi ma non sono fessi perché di essere scippati in metropolitana dalla mattina alla sera o di essere importunati fuori dal supermercato fuori dall'ospedale, fuori dal parcheggio non se ne può più ci sono le 2000 insegnanti precari degli asini nido che fra qualche settimana rischiano di essere precari a vita e chi si è visto si è visto anche qua perché è il mix di buona scuola di Renzi che è una boiata pazzesca per citare Fantozzi e di disinteresse comunale porta la struttura educativa di Roma sostanzialmente allo sbando però io ho chiesto un progetto per quartiere questo chiedo, evitiamo i 120 buoni propositi che poi finita la campagna elettorale tanti saluti me ne bastano 15 non grandi ecco, a me piacerebbe che Roma fosse la città delle Olimpiadi del decoro non delle Olimpiadi farlocche che arrischiscono qualcuno perché stiamo ancora pagando i debiti di grandi iniziative mondiali dal nuoto ad altri eventi sportivi quindi i grandi eventi lasciamoli fare altrove qua mi piacerebbe le Olimpiadi delle strade senza buche per evitare di farla Parigi-Dakar e quindi ci accontentiamo di molto meno un sistema di viabilità a mio avviso demenziale demenziale che penalizza chi si muove in macchina o in moto non per gusto ma per lavoro e questo vale per Roma come per Milano perché sono città che vorrebbero lavorare tutelando la qualità della vita ma la qualità della vita e dell'aria non la tuteli rompendo le scatole a chi lavora ma riqualificando il sistema di riscaldamento degli edifici pubblici e privati che danno l'80% dei problemi se ci vogliono far girare tutti in calesse è difficile lavorare tutti col calesse questo è solo un piccolo approccio la cronaca ci porta a insistere anche oggi col Parlamento questo vale per Roma perché un fatto di cronaca è di ieri a Roma ma oggi è di Rimini ed è di Milano altre maestre anzi io mi rifiuto di chiamarle maestre altre pseudomaestre arrestate per violenze sui bambini a Milano un infermiere arrestato per violenze su malati psichiatrici abbiamo proposto ancora quest'anno in diversi provvedimenti economici il governo ovviamente se ne è fregato di contribuire agli enti locali che mettono sistemi di videosorveglianza telecamere telecamere negli asili nelle scuole nelle case di riposo per tutelare bimbi, anziani e disabili ci hanno detto no ormai la cronaca quotidiana è oggi ci porta in Friuli in Romagna e in Lombardia ieri a Roma ieri l'altro in Toscana non è possibile quindi io penso che un governo serio fra le tante amenità di cui si occupa Renzi qualche lira per aiutare i comuni che vogliono dotarsi di impianti di videosorveglianza a tutela dei bimbi e degli anziani e dei disabili sia doveroso e questo lo porremo con forza settimana prossima in Parlamento sia alla Camera che al Senato il 7-8 maggio saremo nei gazebo di tutta Italia a Roma compresa a sostegno dell'iniziativa della Lega sulla legittima difesa che ieri è stata per l'ennesima volta vergognosamente respinta rinviata in commissione per approfondire eccetera eccetera quindi il governo amico dei ladri evidentemente per il momento l'ha vinta ma spero che non l'abbia vinta ancora a lungo chiudo dicendo finalmente poi rispondo alle domande però dal mio punto di vista dal nostro punto di vista si comincia a parlare di temi a confrontarsi su come fare quel parco come recuperare il patrimonio di all'inizia residenziale pubblica a chi dare ascolto eventualmente fra coloro che occupano senza titolo una casa come risolvere il problema del commercio abusivo come dialogare con le comunità straniere di persone per bene regolarmente residenti a Roma perché io di commentare le elezioni di Roma in base al Sinarre si dice di questo o quel partito mi ero rotto le palle quindi per me con ieri pomeriggio la presentazione di Giorgia Meloni con stamattina con l'inaugurazione della nostra sede l'avventura e la battaglia per arrivare al Campidoglio da vincitori comincia se qualcun altro si aggiunge in corso d'opera per carità di Dio le porte sono aperte per tutti il vincolo temporale che si vota il 5 giugno quindi le riflessioni degli altri dovrebbero concludersi almeno alla mezzanotte del 3 giugno tendenzialmente scherzi a parte il mondo è bello perché vario siamo in una bella democrazia questa città ha bisogno di tante cose fuorché di gente che non ha le idee chiare e non riesce a decidere quindi io sono disponibile a parlare a ragionare a dialogare con tutti però non aspettiamo nessuno abbiamo perso fin troppo tempo dietro alle beghe la leadership non c'è in ballo la leadership del centrodestra c'è in ballo l'asilo nido del quartiere che ho visitato l'altro giorno che è pronto e arredato da due anni e mezzo ma da due anni e mezzo è chiuso perché manca il personale quindi a me di Bertolaso o dei vice Bertolaso interessa zero zero c'è un progetto politico c'è un candidato sindaco c'è una squadra ci sono almeno altre due o tre liste civiche ci sono tanti romani che si avvicinano per la prima volta alla politica le liste lega noi con Salvini saranno composte al 90% da gente che non ha mai fatto politica nella sua vita e questo per me è motivo d'orgoglio tutti sono i benvenuti però non possiamo costringere nessuno a fare qualcosa contro voglia quindi chi vuole vincere sa che questa è una sede che vuole vincere e che Giorgia Meloni è una candidata che vuole vincere chi vuole giocare a perdere ha un intero spazio politico da un'altra parte